In queste ore i Moldavi stanno votando per un referendum costituzionale che potrebbe cambiare il futuro a lungo termine del loro paese. Ai cittadini viene chiesto se sono favorevoli a una modifica della Costituzione in vista dell'adesione all'Unione Europea, dopo che il processo è stato formalmente aperto lo scorso giugno. Allo stesso tempo la Moldova sta eleggendo il suo presidente con l'attuale presidente Maya Sandu in testa ai sondaggi ma senza certezza di essere eletta al primo turno. Alle 13 l'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali era del 25,6%, superiore a quella del 2020. La presidente Sandu ha votato a Kishnáu, dove alcuni cittadini si sono radunati al seggio elettorale scandendo Moldova. Votiamo. Turnout must be over 33% for the referendum to be considered valid and 50% plus one of the responses must be a yes for the constitution to be amended. The vote of Moldovans living abroad can be crucial. Vincenzo Genovese, Euronews, Kishnáu.